Siete belli! Siete più belli! Sono veramente orgoglioso di voi, eh! Siete splendidi, perché insomma non ci sono i finti, i finti ben pensati, quelli che odiamo, perché noi siamo invece delle brave persone, brave persone, non abbiamo bisogno di fingere, siamo un po' stropicciati, però è per quello che siamo così, per quello che siete così belli. E a questo punto, ah, è un tasto che scusa, ci dobbiamo fare. Senza!